Oggi siamo a Campolongo Maggiore, una realtà unica, il Tiger Experience, in tutta Italia e probabilmente anche in tutta Europa. Questo percorso che faremo insieme ci servirà per conoscere il mondo degli addestratori, gli addestratori dei grandi felini, un tema spinoso, difficile rispetto al quale ci sono tanti pregiudizi e cercheremo di conoscere insieme. Dunque, a livello nazionale diciamo che è l'unico parco monotematico esistente in Italia su una particolare specie di animali che è i grandi felini. Siamo un parco molto sui generis per il semplice fatto che, quando dico siamo, intendo chiaramente la presentanza è fatta da Gianni Mattiolo e da Giacomo Ferrari perché siamo soci in questa impresa, siamo un parco estremamente particolare perché il nostro intento non è far vedere degli animali ma il nostro intento è cercare di far capire alle persone innanzitutto quella che è l'etologia dei grandi felini sia in cattività che in natura e cercare anche di far capire alle persone che il benessere di un animale non è relativo a quelle che sono le aspettative che le persone hanno in base magari a delle credenze più o meno popolari ma deve essere giudicato in base a quella che è la vera etologia degli animali. Ma la cosa ancora più importante qual è? È questa, quella che il parco ha un senso solamente nel momento in cui noi cercando di far vedere quello che è anche il rapporto uomo-animale e le basi su cui questo rapporto uomo-animale si stabilisce venga riportato a casa dai visitatori. Che voglio dire? Voglio dire questo, riprendo la frase che venne usata per il Papa Giovanni, quando tornate a casa fate una carezza al vostro bambino. Bene, per noi quello che è importante è quando tornate a casa se riuscirete a vedere o a inquadrare il vostro petto, il vostro cane, il vostro gatto sotto una luce diversa, chiaramente con un maggiore rispetto, allora solo e solamente in quel caso avete dato una ragione di esistere al Tiger Experience. Al Tiger Experience innanzitutto si parla di grandi felini. I grandi felini parliamo del genere pantera, tigri, leoni, leopardi e di alcuni felis, puma per esempio. Abbiamo anche degli altri ospiti, sono alcuni procioni e una moffetta. Sono animali che per la maggior parte sono nati da noi, alcuni sono animali che abbiamo raccolto o da situazioni poco chiare o da situazioni magari di disagio, alcuni nell'ultimo periodo soprattutto collaboriamo portando al parco anche animali a fine carriera da strutture circensi, quindi accogliamo anche animali che non lavorano più al circo. Sì, beh, quelle che vedete per esempio sono praticamente quattro femmine, due bianche e due rosse e rappresentano addirittura la quarta generazione, questo significa che io avevo la mamma della mamma della mamma di loro. Tanti ci chiedono del perché dei cuccioli di tigre con il cane e dov'è la loro mamma. Allora, noi qua al Tiger, precursori di un sistema di allevamento, quando arriva il momento dello svezzamento dei cuccioli, non li togliamo semplicemente la mamma, ma li mettiamo con questo cagnone che si chiama Chad, che è una brucese. Che cosa fa? Fa esattamente quello per cui lui è stato creato e cioè si prende cura degli altri animali. Normalmente noi siamo abituati a vederli a prendersi cura delle pecore. Per Chad, che siano pecore o che siano tigri, non c'è nessuna differenza. Per noi però sì. Perché? Perché Chad aiuta i cuccioli in questa fase di transizione che è quella dalla mamma al mondo esterno per evitare lo stress, per evitare che questi cuccioli subiscano uno stress perché non hanno paura dell'uomo, perché il cane li aiuta ad avvicinarsi e a non subire lo stress da distacco. Devi sapere che questo cucciolino è un maschio, si chiama Iron, e ha solo un anno, ma nel suo primo anno di vita lui ha già salvato la vita da un'altra tigre, che è sua madre. Perché devi sapere, quando lui è nato, la mamma aveva un tumore all'utero, una cosa rarissima, perché questo tumore è sempre stato trovato solo su tigri in necroscopia, quindi mentre facevano le autopsie. Nel nascere lui invece ci siamo accorti che l'utero non tornava alla normalità, con l'Università di Padova con la quale collaboriamo abbiamo fatto un'ecografia alla mamma, abbiamo scoperto il tumore, operato la mamma, la mamma è ancora viva, visibile, ha superato benissimo l'intervento e lui è riuscito a crescere tranquillamente con le nostre cure. Allora Viper per me è un mio gioiello, nel senso che in realtà è un animale che è un animale estremamente importante per me, per il semplice fatto che arrivò a casa mia che aveva già due anni, quindi non è un cucciolo che ho cresciuto, ma è un animale con il quale il rapporto è partito già da una certa maturità, va bene? E ne sono contento, ne vado fiero, per il semplice fatto che quello che voi vedete, questa fiducia che lui ha nei miei confronti è il frutto di un sapersi da parte mia mettere in un angolo ad osservarlo e da parte sua saper insegnare da parte sua a me, quindi al compagno umano, quelle che sono delle regole per potersi rapportare con questi gattoni. E perché è diventato famoso lui? È una pantera nera per la gente, ma in realtà le panterre nere non esistono, esistono i leopardi neri e i jaguari neri, Viper è un leopardo nero, è famoso perché è la pantera nera tra virgolette di Cerentano, è la pantera nera di Gomorra, è la pantera nera di Gomorra, è la pantera nera dell'Alberta Ferretti, la pantera nera della Braille, insomma è la pantera nera forse più famosa d'Italia. Abbiamo parlato della vita degli addestratori, però voi lo sapete, questo mondo è molto attaccato, perché si dice l'animale in cattività è un animale che viene maltrattato, è una vita che non è naturale, che cosa rispondete voi del Tiger Experience? Rispondiamo in due modi, il primo è che non è vero che non è naturale, è naturale per questi animali, magari non corrisponde alla nostra idea, ma l'idea che questi animali hanno della loro vita è questa, prima cosa. Seconda cosa, noi al Tiger abbiamo strutturato un percorso che ogni settimana proponiamo alle persone proprio per capire che cosa sia effettivamente la cattività, perché questi animali hanno una vita che è sana, serena, se vengono rispettate ovviamente la legislatura italiana, perché quella deve essere sempre rispettata, quindi quando si parla di cattività animale bisogna sempre parlare di realtà che rispettano la legge. Quindi un animale se detenuto secondo le condizioni previste dalla legislatura italiana ad oggi non non incorre in nessun tipo di maltrattamento, per chi avesse ancora dei dubbi può venire qua tutte le volte e farci tutte le domande che vuole. Ecco, quando uno va al bar, quando uno conosce una persona dice io faccio questo lavoro, io faccio quest'altro lavoro, si può dire in Italia io faccio l'addestratore di grandi felini? Purtroppo c'è là fuori, quando intendo dire là fuori intendo dire esternamente al Tiger, c'è un'equazione che è assolutamente sbagliata, amare un animale non significa conoscerne le qualità etologiche. Vedete, il problema principale è questo, quando ci si deve prendere cura di un animale, quello che è più importante non è dare all'animale quello che si pensa sia noi giusto per lui, ma quello che è più importante è dare all'animale quello di cui necessita secondo la propria vita biologica ed etologica. Ecco, noi abbiamo scelto il secondo percorso, motivo per cui quello che va a succedere, che cos'è? Che abbiamo a che fare con delle creature che in natura dormono dalle 18 alle 22 ore al giorno, quindi il fatto di credere che una tigre corra tutto il giorno e quindi abbia bisogno di spazi immensi, ad esempio, faccio un esempio stupido, è sbagliato per il semplice fatto che una tigre in natura dorme dalle 18 alle 22 ore al giorno, si alza per 4 ore e va a cacciare. Ma questa caccia non è finalizzata a muoversi, a fare jogging, come noi potremmo pensare, è finalizzata a una sopravvivenza. Nel nostro caso la sopravvivenza, questa necessità di sopravvivenza non ce l'hanno. Nonostante tutto noi riusciamo a dare loro anche un elemento di impegno psicologico perché questa interazione arriva anche a coprire quell'elemento di impegno psicologico che è la caccia. Questo è un piccolo esempio per arrivare a far capire che cosa? Non ragioniamo secondo un metro comune, ma cerchiamo di ragionare secondo quelle che sono delle vere e proprie informazioni etologiche rispettive ad ogni animale.